Cimitero di Noto chiuso questa mattina per consentire la resumazione del corpo di Lele Sceri, il parà di Leva Siracusano che è morto dalla caserma Gamerra di Pisa nell'agosto del 1999 e per le cui cause la procura di Pisa ha riaperto il caso ipotizzando il reato di omicidio. La resumazione è stata disposta dal magistrato che si sta occupando dell'indagine che ha affidato in carico a un medico legale di eseguire una nuova autopsia prevista per la giornata di domani. L'esumazione del cadavere è stata affidata a una ditta di noto e seguita passo passo dai poliziotti e la squadra mobile di Firenze insieme con agenti del commissariato netino coordinati al dirigente Paola Rena. Le operazioni sono state eseguite di mattina e la salma trasferite in un altro luogo per effettuare l'esame autoptico che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi legati alla morte del giovane avvocato siracusano di cui quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa. Il corpo di Lele Sceri è sepolto vicino a quello del padre Corrado scomparso nel 2011 dopo essersi battuto strenuamente per ottenere giustizia per la morte del figlio troppo in fretta archiviata come suicidio. Una lotta ereditata dalla madre Isabella e dal fratello Francesco che hanno avuto lo scorso anno la bella notizia che le indagini fossero riaperte con tanto di persona indagata. Un passo importante è venuto a seguito delle audizioni eseguite dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Emanuele Sceri preseduta all'epoca dalla deputata siracusana Sofia Modivo e della quale facevano parte i deputati prestigiato come Zappulla. per la subito per la subito il centro e Grazie.